Complotto all'isola dei famosi, Francesca Cipriani su tutte le furie dopo il vergognoso gesto. Complotto. Poi prosegue, mi è stato detto non chiamarla, non chiamare quella, a me non me ne frega niente, mi ha votato e non è un problema, era lei a giustificarsi come, non sono andato io a chiedere scusa, ma perché mi hai votato? Non le ho detto niente perché ognuno di noi può fare quello che vuole, Franco non ha nascosto la delusione per il voto di Cecilia Capriotti, che lo ha nominato e parla del rapporto con suo padre, un uomo, che non ha mai dato molto alla famiglia, non ci parliamo da venti anni, lui non è mai stato presente. Un piatto a tavola non ci è mai mancato, ma mancava tutto il resto, mi mancava l'affetto di un padre, quello che provo io per i miei figli o le carezze che non abbiamo mai avuto.